L'accusa è quella di aver ricettato e detenuto armi con le quali una potente organizzazione criminale nella zona di Poggio Marino, in provincia di Napoli, voleva imporre il controllo del territorio. E per fare questo, secondo l'ipotesi investigativa, sarebbe stato anche pianificato un omicidio che è stato però sventato, grazie al sequestro delle stesse armi e all'emissione di un provvedimento di fermo. Oggi nel carcere di Secondigliano, a Napoli, i carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale Partenopeo nei confronti di Carmine Amoruso, 38 anni, Di Marco Amoruso, di 28, e Luca Garante, di 23 anni, tutti pregiudicati di Poggio Marino e appartenenti, secondo gli inquirenti, a un nuovo gruppo criminale capeggiato dall'ex collaboratore di giustizia Carmine Amoruso, già appartenente al clan Giuliano. Per gli investigatori, l'organizzazione criminale aveva pianificato l'omicidio di Raffaele Carillo, 38 anni, appartenente a un clan rivale dei Giuliano, operante sempre a Poggio Marino. Carillo doveva essere punito perché, secondo gli Amoruso, a sua volta avrebbe voluto eseguire azioni di fuoco nei loro confronti. L'ordinanza di custodia cautelare eseguita ratifica il decreto di fermo emesso il 30 luglio di quest'anno dalla direzione distrettuale antimafia della Procura di Napoli. Nel corso delle indagini sono stati recuperati anche due fucili sequestrati a seguito di una perquisizione domiciliare e due pistole.